Classi vuote a San Mauro Castelverde, Calta Vuturo, Ventimiglia di Sicilia, Mezzo Iuso, Torretta, Altavilla, Milicia, Trabbia e Terrasini in provincia di Palermo, a Caltanissetta, Montedoro e Serra di Falco nel Nisseno, a Regalbuto e Sperlinga nell'Ennese, a Calamonaci, Villa Franca Sicula, Sant'Angelo Muxaro in provincia di Agrigento, a Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Licodia e Ubea nel Catanese e a Melilli in provincia di Siracusa. Il provvedimento sarà in vigore dal 22 al 27 marzo. Lo ha deciso ieri sera il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in applicazione dell'articolo 43 del DPCM del 2 marzo e in seguito alla relazione settimanale del Dipartimento regionale Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico. Musumeci ha così disposto la chiusura delle scuole in 20 comuni della Sicilia. Negli istituti isolani il numero dei contagi resta ridotto, ma ad allarmare la situazione in quei comuni interessati dal provvedimento. Dunque è stato deciso di chiudere le scuole anche per evitare la circolazione di genitori e bambini per raggiungerle e per ridurre il più possibile il rischio di ulteriore diffusione del virus.